buongiorno a tutti ed eccoci qua in un nuovo video dove scopriremo insieme le nuove creazioni in resina vediamo se riesco a mettere il flash eccolo qui dunque partiamo innanzitutto con questo che era un po che non lo facevo poiché era rimasto qui al paese quindi perciò la non lo trovavo accidentaccio va bene questa è una base perché a me o spero che sia venuta bene vediamo vediamo poi la sistemerò questo stampo uno stampo che ho fatto io un attimo solo e sì che queste cose fatte ieri sera ecco si è addirittura pulito lo stampo eccolo qua sono riuscita a tirarlo fuori eccolo qui scusatemi è la zampetta del mio cavalletto non riesco a far stare su più il portacellulare però basta che si vedono le creazioni questo blu mi piace moltissimo poi verrà un cabochon trasparente o bianco ma mi piace poi vediamo magari questo cuoricino che ho fatto con il resto con la resina di scarto vediamo è uscito fuori scusatemi eccolo qui questo qua come anello mi piace assai ci vedono un po di righine però vedete mi sembra un po una come un effetto tridimensionale all'interno il pigmento rimasto rosa da un po di tridimensionalità però mi piace poi mettiamo via questo mettiamo via questo qua mettiamo via questo qui passiamo a questo speriamo in bene vediamo eccolo qui metti a fuoco vedete sono riuscito a tirarlo fuori è rimasto lo stampo un po duro però con questo blu mi piace veramente tantissimo mi piace mi piace spero che piaccia anche a voi io mi incoraggio voi dovete mettere anche il commentino con la creazione che magari vi piace di più così almeno mi incoraggiate poi vediamo le cornicine salvati almeno tu caro stampo aspettate ecco la prima cornice i dettagli si vedono benissimo secondo me lucida forse è meglio ovviamente qua ci sono tutti gli scarti della resina che dovrò togliere con la forbice però sì sì poi scopriamo quest'altra eccola qua questa qua dovrò prendere magari un pigmento marrone da farla tipo una specie di cornice fatta con dei rami se lo trovo lo prendo di sicuro e qui in mezzo magari mettere dei fiori secchi oppure qualcos'altro di piccolo inglobato poi passiamo oltre vediamo questo qui poi alla fine ci sono dei pezzi forti e ci sono i pezzi forti questo qua viene ancora via bene wow tutto questo eccesso di resina ma cosa combino vabbè poi dopo lo toglierò con la forbice questo cavallo alato questo pegaso è meraviglioso i particolari sono sempre bellissimi lo stampo si è salvato per il momento poi vediamo la baretta il coperchio della baretta vediamo speriamo in bene eccolo qui ovviamente con i suoi eccessi e vedremo e cosa fare per il suo interno si vedono le mie impronte digitali eccolo poi vediamo il coperchio della stella quanti eccessi che ci sono piano piano eccolo ovviamente taglierò via tutti gli eccessi se ne vengono vediamo ci piace c'è anche qualche glitter e beh sì spero di non rovinarli il primo solco non è mai un solco poi vi faccio vedere i pezzi forti ecco il primo la conchiglia vera scuse ecco il primo la conchiglia vera con due delfini al suo interno che nuotano la conchiglia è fatta così qua ci sono un po' di eccessi di resina che toglierò però mi piace tantissimo purtroppo questo delfino rosa qua indietro non si vede moltissimo però rende più o meno l'idea di quello che voglio fare conchiglia vera poi ho fatto questa qui con un po' di glitter al suo interno che è così dunque sto facendo un'altra creazione con le perline e poi vi farò un altro video o l'acquisti creativi e ci vediamo al prossimo video con le creazioni e gli acquisti creativi ciao a proposito iscrivetevi al mio canale e lasciate un mi piace con un commento grazie